Buon pomeriggio a tutti e grazie di essere qui e questa è un'occasione importante per la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato che presiedo perché oggi presentiamo l'annuario italiano dei diritti umani, un'opera preziosa, preziosissima direi, che è appunto uno strumento indispensabile non solo di indagine ma considerata la sede in cui questo convegno si svolge di possibile per chi ne abbia cuore, volontà e intelligenza azione politica. La Commissione sta svolgendo un'attività intensissima, solo pochi giorni fa abbiamo organizzato un convegno affollatissimo che aveva per tema il riconoscimento giuridico della minoranza rappresentata da Ron Sinti e Camminanti e quella iniziativa così come quella di oggi sono parte di una complessiva attività che ci ha visto e tutto ciò nell'arco di pochissimi giorni con una commissione visitare il centro di identificazione e di espulsione di Gradisca, l'istituto per madri con bambini del carcere femminile della Giudecca e la sezione del 41 bis del carcere di opera di Milano. Come può vedersi da questi semplici riferimenti a un'attività ripeto tutta avvenuta negli ultimi dieci giorni, questo va ricordato non solo al nostro vanto diciamo così ma proprio per far intendere come l'iniziativa di oggi cali profondamente in questo lavoro e costituisce di questo lavoro un retroterra indispensabile. Aggiungo personalmente che per me non c'è la minima traccia di retorica ve lo posso garantire, presentare un lavoro curato dal professor Patisca è davvero un onore perché di quel suo di lunga data impegno del suo lavoro e dei suoi collaboratori così come quello del professor Mascia mi sono dichiarato senza alcuna civeteria un piccolo fan da anni e credo che questo laboratorio di ricerca sia una delle realtà intellettuali ma insisto con una possibile ricaduta pubblica istituzionale e dunque politica nel suo significato più nobile davvero indispensabile per il nostro paese dove lo stato di tutela dei diritti presenta un'infinità di contraddizioni, zone d'ombra dove quegli stessi diritti sono o violati o trascurati, ampi segmenti della società dove diritti fondamentali non vengono riconosciuti o vengono quotidianamente negati. Quindi io davvero penso al lavoro di oggi e dunque all'attività di questo gruppo di ricerca come se posso permettermi uno strumento indispensabile per chi facendo politica dedica il massimo dell'attenzione proprio a questo tema cruciale. Io voglio aggiungere una semplicissima considerazione perché non solo abbiamo tanto da ascoltare ma perché oggi appunto il momento di discutere nel merito e dunque gli interventi previsti sono pressoché interamente dei curatori e degli autori del volume in questione. Però non voglio esimermi dal riferirmi a qualcosa che io ritengo molto molto importante. Esiste come sapete una riflessione che possiamo definire millenaria sulla questione dei diritti umani e un'elaborazione estremamente interessante, significativa che è passata attraverso prove intellettuali e prove pratiche di grande sofferenza che ha portato una buona parte della dottrina a concordare sul fatto che i diritti umani debbano godere di una prerogativa di assolutezza. di diritti umani come titolarità dell'essere umano in quanto appartenente all'umanità stessa. Dunque, parlando in maniera molto sintetica e persino forzando dei termini, la categoria dei diritti uomini come dotata di una sua naturalità e di una sua incondizionata condizione assoluta. Poi, la storia dell'uomo è storia di convenzioni, patti, normative che hanno tradotto quella assolutezza in vincoli, in diritti positivi, in carte, in ordinamenti, ma resta quella che è appunto il dato fondamentale. La natura assoluta dei diritti umani dipende dal fatto che se ne è titolari in quanto membri della comunità umana. Se questo è, e chiedo scusa davanti ai più insigni studiosi della materia per la sintesi, l'approssimazione di queste mie prime affermazioni, se questo è il dato da cui muoviamo, quello che io posso aggiungere, vorrei dire come militante politico, è che questo dato, che ha avuto nel tempo un suo percorso progressivo che conosceva certo contro tendenze, arretramenti, ma comunque procedeva quasi fosse una forza inarrestabile in un crescendo che non conosceva ostacoli, tutto ciò oggi va sottoposto a verifica e riflessione. E qui appunto quello che mi premeva dire, che riflessione appunto della nostra attività di commissione, oggi si può arrivare ad affermare che in questo percorso che ha portato ad affermare la natura assoluta dei diritti umani, troppi segnali ci dicono che forse è in atto una regressione. mi limito e concludo su questo, a segnalare quello che lo sguardo politico ci suggerisce. le grandi mobilitazioni, le grandi passioni, le grandi lotte per l'affermazione dei diritti di cittadinanza, che certamente hanno avuto un importante successo, conoscono nel loro esito finale una sorta di meccanismo di regressione. La capacità di inclusione all'interno del sistema di cittadinanza sembra avere come fatale contropartita un meccanismo di esclusione. essere parte della cittadinanza oltre ad essere faticoso, non garantito una volta per tutti, soggetto a percorsi precari e a movimenti erratici ai confini di quello stesso sistema, prevede i meccanismi di esclusione di chi di quel sistema della cittadinanza non è parte. Ecco che quindi il processo di emancipazione che porta all'inclusione e al godere di diritti e garanzie propri del sistema di cittadinanza prevede immediatamente l'esclusione di chi non è cittadino. Questo riguarda in primo luogo gli stranieri, ma non solo. Riguarda quanti una quota di quel pacchetto di prerogative che il sistema di cittadinanza prevede perdono perché precipitano una scala sociale. Ma contemporaneamente, per farla veloce, anche il sistema della cittadinanza, per chi è incluso, conosce un limite che è la sua natura nazionale. E dunque, qui si pone un dilemma che richiamo rapidissimamente, quella cittadinanza nazionale o diventa immediatamente cittadinanza sovranazionale o non è. Ancora una volta, l'esempio è quello dei stranieri, ma non è il solo. Non a caso, per alcuni decenni la definizione della non appartenenza passava attraverso l'etichetta di extracomunitari. Ma c'è infine un'ultima considerazione, ed è che l'appartenenza al sistema della cittadinanza riguarda alcuni gruppi appartenenti alla stessa nazionalità. I luoghi di privazione della libertà, e non mi riferisco esclusivamente al carcere, penso ai centri di identificazione di espulsione, penso alle caserme, ma penso ad esempio ai reparti psichiatrici degli ospedali per chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, sono luoghi di sospensione di quegli stessi diritti, di quelle stesse garanzie. Dunque, quello che poteva sembrare e che abbiamo sognato che fosse, abbiamo sperato, immaginato che fosse un processo inarrestabile e progressivo, conosce tutta una serie di possibili limiti, vincoli e persino di percorsi regressivi. Ecco, questo era quello che volevo dire come contributo a una discussione che poi verrà sviluppata in termini scientifici assai più rigorosi, ma era come una sorta di piccolo, piccolissimo contributo che dal nostro punto di vista, quello di una commissione istituzionale, ma composta da parlamentari, dunque da persone che hanno un mandato e una militanza politica, riusciamo a vedere, osservando la mappa del rispetto di quegli stessi diritti e insieme la geopolitica delle loro violazioni. Questo consegno anche agli interventi degli oratori, qualora fossero interessati a replicare, ma qui la cosa fondamentale è presentare nella maniera più significativa, più autorevole, quello che è, dicevo, lo strumento preziosissimo che ci consegnano. Questo annuario italiano dei diritti umani giunti alla sua terza emizione. Due indicazioni rapidissime organizzative. Accanto a me parteciperà a questo convegno il vice ministro degli affari esteri, l'onorevole Pistelli, e avremo anche una breve visita del ministro degli affari esteri, Emma Bonino, che, come si dice in questi casi, ma è proprio vero, impegni istituzionali strappano a questo convegno e la costringono a stare altrove. Poi voglio ringraziare, sapendo di dimenticare molti, alcuni dei presenti al quale teniamo, dunque Patrizio Gonnella, presidente della Benemerita Associazione Antigone, e i senatori dalla Zuanna, Depin e la senatrice Depin e la senatrice Amatti. Detto questo, nel corso del convegno ricorderemo altre presenze. Io darei immediatamente la parola al professor Mascia, direttore del Centro di Ricerca sui Diritti Umani presso l'Università di Padova. Prego, professore. Grazie, presidente. Manconi, a nome del Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell'Università di Padova e dell'intero Ateneo Patavimo, Patavimo esprime un vivo ringraziamento, presidente, a lei per la cordiale ospitalità che offre alla presentazione dell'Annuario Italiano dei Diritti Umani 2013, ma anche per le parole che ha voluto dire quest'oggi una lezione sui diritti umani che ha fatto e un grazie anche per il ruolo di motore che la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani sta svolgendo da più legislature nel nostro Parlamento. Molti disegni di legge che hanno portato alla ratifica di strumenti giuridici internazionali, da ultimo quello relativo all'OPCAT, al protocollo facoltativo alla Convenzione internazionale contro la truttura, si deve alla Commissione straordinaria per i diritti umani del Senato. Un grazie anche al Vice Ministro degli Affari Esteri che sta per arrivare e devo ringraziare il Presidente del Comitato Interministeriale per i diritti umani, l'Ambasciatore Vinicio Mati, al quale tra l'altro auguro fruttuosa missione a Ginevra nel delicatissimo campo del disarmo. L'Annuario Italiano dei Diritti Umani è tra i frutti maturi dell'impegno nel campo della ricerca promosso dal Centro Diritti Umani dell'Università di Padova in oltre 30 anni di attività. Una ricerca non avulsa dall'impegno educativo che il Centro Diritti Umani porta avanti gestendo due corsi di laurea, un corso di laurea triennale in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali e Diritti Umani e un corso di laurea magistrale in Istituzioni e Politiche dei Diritti Umani della Pace che dall'anno accademico che iniziamo lunedì è stato trasformato in un corso di laurea erogato interamente in lingua inglese con il nome di Human Rights Multilevel Governance. Questo percorso formativo prepara gli studenti a lavorare in contesti complessi a livello locale, nazionale e internazionale promuovendo valori etici e impegno sociale e contribuendo anche a sviluppare una cultura universale dei diritti umani come raccomandato dalle Nazioni Unite e dall'UNESCO. I ricercatori che con me e il professore Papisca curano la preparazione dell'annuario si sono formati alla Scuola Patavina dei Diritti Umani. Mi riferisco ai professori Paolo De Stefani e Paola De Gani che non sono qui presenti con noi oggi e ai pieci di candidate Andrea Cofelice, Pietro De Perini e Claudia Pividori che invece sono a questo tavolo. L'annuario matura in un contesto che ha visto l'Università di Padova promuovere di intesa con la Commissione europea la fondazione del Master europeo in diritti umani e democratizzazione e poi il collegato centro interuniversitario europeo per i diritti umani e la democratizzazione. Due percorsi formativi e di ricerca che coinvolgono oltre 41 prestigiose università europee. E' arrivato la signora Ministro Emma Bonino. La ringrazio molto e la saluto. Come ho anticipato non so per quanto potrà soffermarsi, non so se vorrà prendere la parola. Grazie e comunque riprendiamo. Prego, professor Mascia. La redazione dell'annuario italiano dei diritti umani costituisce un passo molto impegnativo considerata l'estrema delicatezza della materia. Con l'annuario fotografiamo la posizione dell'Italia nel sistema internazionale dei diritti umani, rendiamo pubbliche luci ed ombre. Siamo consapevoli della nostra responsabilità e dell'impegno scientifico e civile che una pubblicazione periodica di questo genere comporta. A procedere correttamente, e mi sia consentito di dirlo anche con entusiasmo, ci incoraggiano le espressioni di apprezzamento ricevute in occasione delle presentazioni della prima edizione dell'annuario nel 2011. Il primo numero lo consegniamo al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e il secondo numero lo consegniamo a Navepille, all'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite. Profitto dell'occasione per informare che la pubblicazione dell'annuario, sia della versione in lingua italiana con Marsilio Editori, sia quella in lingua inglese con Peter Lang, è resa possibile dal supporto che ci viene assicurato dalla Regione del Veneto e da Veneto Banca, che ringrazio vivamente. La Regione del Veneto è stata la prima in Italia a dotarsi nel 1988 di una legge specificamente portante sulla promozione della cultura dei diritti umani e della pace. Ringrazio anche Oltre Radio, media partner di questo evento. Concludo dicendo che siamo orgogliosi di rendere un servizio di verità e trasparenza al nostro Paese, nella certezza che soprattutto attraverso l'informazione e l'educazione, esso si qualificherà sempre più per scrupolosità e puntualità nell'adempiere agli obblighi internazionalmente assunti nel campo dei diritti umani. Mi ringrazio per l'attenzione, Presidente Elena. Grazie, Professor Mascia. Prego, Professor Patisca. Grazie, grazie Presidente. Consentitemi di ringraziare subito anche la Ministra Bonino. Io sono un po' anche emozionato di vederla qui. Non avevo dubbi che avrebbe trovato qualche buco. In carne e ossa, poi. In carne e ossa. Con grandissima stima che va indietro nel tempo. Io vado dicendo anche ai nostri studenti, è una storiella di portata veramente storica. Non ci sarebbe il Tribunale per la ex Jugoslavia se non ci fosse Emma Bonino. Non ci sarebbe la Corte Penale Internazionale se non ci fosse stato il Tribunale per la ex Jugoslavia e ancora una volta Emma Bonino. Quindi questo rilievo storico del ruolo svolto da lei in un contesto, io ebbe occasione, chiudo subito, ma ebbe occasione di capire, fin da allora, siamo alla fine degli anni, primi anni 90, particolare poi nel 93, fu l'anno significativo per il Tribunale ex Jugoslavia. Io mi resi conto della mobilità molto autorevole, molto apprezzata, transnazionale di Emma Bonino che era in contatto con personalità di altissimo rilievo in giro per il mondo e quindi, insomma, fece fare all'Italia un figurone. Si tratta di far valere poi queste risorse, che sono risorse politiche, morali, in termini anche di potere, un sano soft power nelle relazioni internazionali. Consentitemi anche a me di ringraziare in particolare il Presidente Manconi, che tanto stimiamo, ma anche tutti i partecipanti. Consentitemi anche di sottolineare la presenza di un senatore, che è stato mio laureato a Padole, il senatore Enrico Cappelletti, che vedo qui ci siamo rivisti dopo un po' di anni e mi fa molto piacere. Alla terza edizione, l'annuario curato al Centro di Diritti Umani di Padova, si conferma, è stato già messo in rilievo dal Professor Massa, come uno strumento utile a conoscere come l'Italia si colloca questo complesso sistema internazionale di norme, obblighi e istituzioni. Per questo tipo di pubblicistica, vi devo dire, l'annuario italiano costituisce tuttora una primizia insieme con il coetaneo annuario francese. fra loro comparabili quanto a sistematicità e completezza di contenuti. A livello internazionale non ci risulta che ci siano due pubblicazioni di questa consistenza. Una certificazione di qualità viene anche, e siamo contenti, dall'editore Peter Lang, che ha visto aumentare le richieste di acquisto dell'Italian Yearbook of Human Rights. Questo significa un'attenzione per le vicende italiane e per come l'Italia si colloca nel quadro internazionale. E vi devo dire anche, il Professor Massa ha ricordato le presentazioni. Abbiamo qui, tra l'altro, due illustri colleghi che sono stati padrini alla presentazione qui in Italia. a Farnesina, due anni fa. Il Professor Umberto Leanza, che è qui anche come Vice Presidente della Sioi, e il Professor Massimo Panebianco, che è il Professore a Salerno, membro del Comitato di Diritti Umani della Sioi, anche lui. C'è anche il Professor Marchisio, quindi abbiamo qui una rappresentanza molto elevata degli studi gius internazionalistici internazionalistici in Italia. Allora, pensando a queste presentazioni, vi devo dire che nelle presentazioni avvenute a Strasburgo, al Consiglio d'Europa e a Ginevra, al Consiglio di Diritti Umani, un segmento formale del Consiglio di Diritti Umani, a Ginevra c'era poi l'alta commissaria che ha presentato personalmente, abbiamo avuto delle dimostrazioni molto interessanti di simpatia per l'Italia. I nostri rappresentanti permanenti a Strasburgo c'era l'ambasciatore Busetto, a Ginevra l'ambasciatrice Miracchian ci erano dati da fare perché riuscisse anche la partecipazione, ma insomma temevano che ci sarebbero stati interventi sull'Italia che avrebbero toccato questo, quell'aspetto diciamo negativo della situazione. E invece ci furono manifestazioni, c'erano personalità diciamo significative delle istituzioni, fu una manifestazione di simpatia per il nostro Paese. Partendo dall'annuario c'è da uno strumento trasparente che era un po' uno strumento di trasparenza. E quindi diciamo quegli eventi sono stati molto significativi per capire e non è retorica che l'Italia è un Paese amato e tutti si attendono che questo Paese sia coerente in parole e opere. L'annuario 2013 contiene dati riferiti ovviamente al 2012. Si articola in quattro ampie parti rispettivamente portanti sul recepimento delle norme internazionali, sulle interazioni, noi parliamo di dialogo dell'Italia con le istituzioni internazionali, sulla giurisprudenza nazionale, internazionale ed europea. L'introduzione abbiamo significativamente intitolata l'Italia e i diritti umani del 2012 un anno di sofferenza per i diritti economici, sociali e culturali. In presenza dei dati ISTAT sulla disoccupazione e la povertà il Comitato di ricerca e redazione ha inteso richiamare l'attenzione sul fatto che l'assenza di un'adeguata politica per la piena occupazione e lo sviluppo è violazione di diritti fondamentali non meno grave della violazione di questo o quel diritto civile politico e che pertanto occorre rispettare il principio di interdipendenza e indivisibilità di tutti i diritti della persona. Il diritto internazionale dei diritti umani non consente di discriminare tra diritti fondamentali assegnando i diritti civili e politici all'area della precettività e confinando quelli economici e sociali all'area della programmaticità come dire al bondo dell'optional. In virtù non solo dei principi dell'etica ma oggi anche delle norme di diritto positivo internazionali le politiche economiche finanziarie monetarie ai vari livelli non sono meno necessarie e obbligatorie delle sentenze tribunali dovendo fare i conti con le esigenze vitali e la dignità della persona prima che con le strumentalità e i determinismi del mercato. Nel mondo globalizzato e nell'era dei diritti umani il principio di interdipendenza e indivisibilità di tutti i diritti fondamentali segnerà sempre più marcatamente lo spartiacque tra le vecchie culture della governance statocentrica e la nuova frontiera della cultura politica fondata su tutti i diritti umani per tutti nel segno Presidente Mancone ha sottolineato nel segno dell'inclusione e della partecipazione. L'interconnessione Stato sociale e Stato di diritto costituirà sempre più elemento di sostenibilità non solo delle attività di governance ma anche della stessa forma della statualità. A questo riguardo si segnala un importante documento delle Nazioni Unite del settembre 2012. La dichiarazione dell'Assemblea Generale sullo Stato di diritto ai livelli nazionale e internazionale dove si afferma tra l'altro che Stato di diritto sviluppo e tutti i diritti umani sono fortemente interrelati e si rafforzano reciprocamente. Anche quest'anno l'annuario contiene l'agenda italiana dei diritti umani una giornata almeno secondo noi promemoria o ruolino di marcia finalizzata a ricordare a chi di competenza quali sono gli obblighi internazionali pendenti dell'Italia anche in vista del prossimo esame al Consiglio di diritti umani delle Nazioni Unite dove il caso di sottolineare ci si dovrebbe presentare più in regole che nella prima esperienza. Quindi questa è una scadenza veramente molto importante cosa di nuovo nel 2012 rispetto al 2011 qualcosa c'è come metteranno tra poco in evidenza i membri del gruppo di ricerca e faranno degli interventi pontuali anche se sintetici ci sono dei dati significativi chiaramente tra gli altri il fatto del deposito delle ratifiche delle convenzioni europee sulla corruzione ecco quello è un dato sicuramente significativo tra altri ma restano vischiosamente i buchi neri io ne sottolineo due la persistente assenza di una commissione nazionale per i diritti umani quale organo indipendente collegiale conforme ai principi di Parigi e la persistente mancanza di una specifica previsione del reato di tortura nel codice penale e a livello internazionale ci sentiamo ripetere sempre questa storia allora mi avvio a concludere l'annuario vuole essere se buona volontà ovviamente da parte nostra uno strumento di conoscenza del diritto internazionale dei diritti umani e dei relativi meccanismi attuativi partendo dai dati esso intende contribuire a riflettere su come fare avanzare la civiltà del diritto per il rispetto della dignità umana cioè di un valore la dignità umana che come proclama la dichiarazione universale dei diritti umani cito costituisce il fondamento della libertà della giustizia e della pace nel mondo e il rispetto della dignità umana che costituisce il fondamento la conoscenza dei ricchi contenuti di questo nuovo diritto umano centrico pervaso di etico universale è utile per innovare sia sul terreno della normativa nell'ottica ovviamente delle leggi sempre per vicenda sia su quello delle policies pubbliche e delle misure positive dire diritti umani equivale a dire pienezza del diritto plenitudo iuris che a sua volta comporta pienezza della cittadinanza presidente Manconi plenitudo civitatis nel rispetto dell'eguale dignità di tutte le persone sotto l'ispirazione assiologica e lo stimolo innovativo del diritto internazionale dei diritti umani si sta sviluppando realmente si sta sviluppando una cultura universale dei diritti umani l'ho richiamata il professor Mascia così come caldeggiata in particolare dall'UNESCO c'è l'importante convenzione UNESCO del 2005 per il rispetto della diversità delle espressioni culturali uno strumento preziosissimo dall'Indalia e dalla stessa Unione Europea questa cultura universale dei diritti umani è decisamente intrinsecamente orientata al dialogo interculturale e all'avveramento di una nuova cittadinanza di una nuova cittadinanza plurale che superi le rischiosità discriminatorie dello ius sanguinis e di uno stesso ius soli nazionalisticamente concepito nello spazio giuridico e territoriale mi permetto concludo con una piccola provocazione probabilmente l'annuario che stiamo preparando la prossima edizione toccherà il tema cittadinanza nello spazio giuridico e territoriale dell'Unione Europea partendo dalla sua carta dei diritti fondamentali si pone concretamente oggi la sfida di pervenire ad una legge uniforme europea della cittadinanza che faccia riferimento ai diritti della persona e ad uno ius soli europeo e uno ius soli europeo questa è un po' una sfida anche per noi del comitato di ricerca eccetera cercheremo di attirare l'attenzione su questo aspetto vi ringrazio per l'attenzione grazie 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 professor papisca come prevedevo nel citare i presenti è fatale ricordarne alcuni e dimenticarne altri quindi ringrazio per la loro presenza la senatrice Simeoni il senatore Capelletti e i docenti che sono stati opportunamente citati che io ho dimenticato di indicare dimenticanza ancora più grave perché tra essi non c'è come può fieramente rivendicare il professor papisca un suo laureato ma c'è il professor Marchisio che è stato se non altro il mio compagno di banco al liceo domenico Alberto Azzoni di Sassari quindi è un piacere ritrovarlo qui ora voglio dare la parola al signora ministro Emma Bonino anticipando che dopo il suo intervento la ministra è costretta ad andare via per ragioni istituzionali sono qua buongiorno in effetti aveva ragione il professor papisca quando diceva sono sicura che troverà modo di esserci ho trovato modo di esserci però un po' breve perché è veramente un periodo non so se a definirlo intenso comunque fa niente scioglietelo voi diciamo l'aggettivo che volete attribuire a questo periodo rimane il fatto che in tutte queste turbolenze sia per dovere istituzionale oltre che per passione individuale e storica da tanto tempo il punto fermo della promozione e difesa dei diritti umani rimane per me in tutte le articolazioni come militante come non c'è pace senza giustizia come nessuno tocchi caino come come vice presidente del senato insomma è stato e continua ad essere una bussola molto molto importante anche se poi bisogna declinarla a seconda del contesto in cui ci si trova ci si trova ad operare però ci tenevo a dire tre cose non solo perché anch'io condivido che l'annuario sia uno strumento molto importante mi fa piacere che sia la terza edizione e lo è perché certamente questo è l'annuario che si riferisce al 2012 e il mio tipo di intervento di saluto è un po' un aggiornamento su quello che entrerà spero nell'annuario del 2013 intanto la prima cosa che da ministro ho cercato di vedere è che è molto difficile fare politica senza uno strumento una cosa è un intervento in un convegno una cosa è uno strumento che serve per cui ad esempio lavorare in stretto contatto con la commissione diritti umani del senato è un modo molto molto importante di fare sinergie ci sono cose che i senatori possono e debbono fare altre che il governo fa e deve fare in modo diverso sempre le stesse ma con modalità modalità diverse la prima cosa che ho pensato e avevo verificato e nella diciamo austerity spending review eccetera eccetera insomma esisteva al ministero un comitato interministeriale per i diritti umani a spese zero peraltro perché è un comitato interministeriale insomma nella folata generale si era abrogato il comitato fortunatamente la Farnesina ha fatto ricorso fortunatamente lo abbiamo anche vinto e quindi fortunatamente sto fermando il decreto di ricostituzione del comitato interministeriale che è uno strumento di raccordo fondamentale perché è uno strumento che tiene i contatti e cerca di rendere omogenee le attività di altri ministeri che può essere il ministero degli interni il ministero delle pari opportunità su cui verrò per esempio il ministero dell'integrazione il ministero della giustizia quindi avere una politica più o meno coerente anche da prospettare in ambito internazionale per cui questo strumento è in via di ricostituzione e io spero che sia un'interfaccia molto utile sia per gli studiosi di tutta evidenza che per le altre organizzazioni che di questo si occupano la seconda questione che volevo dire è che indubbiamente l'annuario presenta per il 2012 e presenterà altrettanto per il 2013 una parte di luci e ombre quello che io mi auguro è che il lavoro di questi mesi per il vostro annuario dell'anno prossimo faccia aumentare le luci ed è questo che stiamo cercando di fare e devo dirvi che non sono poi così negativa noi abbiamo una questione tutta nostra italiana su cui non tornerò perché da militante o da radicale come sapete ci stiamo veramente spendendo ma anche con Luigi e d'altro sulla questione carceri la questione carcere e giustizia al di là delle strumentalizzazioni della cronaca è un problema vero del nostro paese e che noi dobbiamo trovare modo di ridurre le 1200 condanne annuali che la corte o 1200 ma sempre li siamo che la corte europea dei diritti dell'uomo commina a questo paese per situazione inumane delle carceri per lunghezza dei processi e lo dico al di là delle strumentalizzazioni di cronaca perché questo interessa a milioni di cittadini e non solo a uno ancorché e magari più importante di altri ma il problema della giustizia deve interessare tutti e su questo ci dobbiamo muovere e devo dire con il ministro cancellieri ci stiamo muovendo per esempio sui risarcimenti della legge Pinto è una cosa inenarrabile nel senso che il giusto risarcimento per lo Stato non risarcisce il condannato rifà un altro ricorso conclusione siamo a circa 10.000 casi di ricorso ex legge Pinto che non riusciamo a smaltire e di cui il problema non è anche l'entità complessiva della cifra del risarcimento che peraltro nessuno riesce a quantificare ma a spanne non dovrebbe essere è il fatto che tutto questo intasa la Corte Europea dei diritti umani che si ritrova a ricevere migliaia di cause di intasamento per recidività non dell'imputato ma dello Stato che insomma sta diventando una fattispecie diciamo piuttosto particolare quindi questo però se vado su altri temi che pure sono importanti innanzitutto diciamo che nell'annuario dell'anno prossimo ci sono alcune luci che verranno fuori non tutte di di attività mia ma anche del governo precedente e che credo aiuteranno a aumentare questa accoglienza che viene spesso riservata all'Italia che lei diceva così favore parlo ad esempio all'adesione e la ratifica della convenzione di Lanzarote per esempio sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento sessuale mi riferisco all'adozione della legge sulla cooperazione con la Corte Penale Internazionale ci abbiamo messo dieci anni esattamente dieci la ratifica del protocollo facoltativo della convenzione internazionale contro la tortura di cui la legge adesso qui al Senato in commissione io spero che si riesca a sbloccare peraltro il governo era anche disponibile a presentare un proprio disegno di legge ma avevamo il timore in contatto con gli uffici del Senato di bloccare l'iter invece di proposte di iniziativa parlamentare che già sono in corso ma comunque la disponibilità c'è se serve se non serve non abbiamo come dire esigenze di concorrenze interistituzionali chi la fa prima va benissimo abbiamo anche attuato la firma e la ratifica della convenzione del Consiglio d'Europa sulla violenza nei confronti delle donne abbiamo anche la messa a regime della strategia nazionale dell'inclusione dei rom sinti e camminanti di cui proprio l'altro ieri ho partecipato al tavolo istituito dal ministro Chiang e interministeriale proprio per l'attuazione di questa strategia abbiamo anche l'adozione di una strategia nazionale in materia di protezione delle persone LGBT e stiamo prossimamente finalizzando il piano nazionale antirazzismo e il secondo ciclo del piano d'azione nazionale relativo a donne pace e sicurezza quindi diciamo un cantiere perché poi una cosa è la radifica una cosa è l'applicazione ma su questo non voglio entrare più di tanto ed è chiaro però che come dicevo esistono però fragilità e gaps di cui ho parlato prima di natura infrastrutturale e nonché ritardi nel recepimento della giurisdizione della Corte Europea tutto questo è molto importante il lavoro che continuiamo a fare e faremo proprio in vista della scadenza di cui parlava il professor Fafisca e anche il professor Mascia prima e cioè la scadenza 2014 in cui l'Italia sarà di fronte al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite e di cui peraltro diciamo facciamo parte e per il quale abbiamo presentato una nuova candidatura per il triennio 2019 e 2021 tutto questo si accompagna ad un lavoro per esempio di attuazione vera della risoluzione sulla moratoria della pena di morte che anche lì è un dossier che ha luce e ombre ci sono paesi che vanno in avanti e paesi che erano in una moratoria di fatto e che invece sono tornati alle esecuzioni io stessa parteciperò ad una conferenza che vogliamo organizzare con nessuno tocchicaino in Sierra Leone una conferenza regionale proprio per evitare passi indietro diciamo e non il trend positivo anche perché noi avremo l'anno prossimo la risoluzione biennale a livello Nazioni Unite quindi dobbiamo assolutamente lavorare per aumentare il numero dei paesi in moratoria legale in modo da diciamo bloccarli e vincolarli in qualche modo abbiamo poi la questione importante che stiamo portando avanti che è quella sull'impegno a favore della libertà di religione e di pratiche religiose non vi sconvolga che lo dica con molta convinzione una laica anzi ha maggior ragione perché ve lo dice una persona di grandi convenzioni laiche però quello è un diritto fondamentale che peraltro ha proprio ve l'avrete visto anche nelle cronache di questi giorni diventa poi un problema persino settario i copti in Egitto i cristiani in Siria cioè sono poi assurgono la violazione di questi diritti arriva a componenti settari e reali nelle crisi diciamo più violente che abbiamo che abbiamo di fronte abbiamo una da questo punto di vista l'altro obiettivo che abbiamo è l'applicazione della risoluzione contro le mutilazioni genitali femminili di cui avremo iniziative adesso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e poi in Italia a partire dal mese di ottobre e abbiamo deciso come governo di entrare a far parte dei governi promotori di una legislazione o trattato contro i matrimoni obbligati e giovanili il titolo della campagna sarà troppo giovane per essere sposata voi sapete che è uno dei problemi perché molto spesso questi matrimoni giovanili sugli 8 9 10 11 anni sono di fatto un rendition in buona sostanza di schiavitù più o meno sessuale e peraltro sono spesso accompagnate da violenze anche fisiche di cui gli ultimi atti di cronaca credo li abbiate tutti quanti sotto gli occhi questo solo per dire che non voglio neanche tornare ovviamente sulla convenzione di Istanbul che è stato un altro atto così faticoso che sembrava automatico l'adesione alla convenzione di Istanbul sappiamo bene dove era il blocco in buona sostanza e dove è stato facile arrivare né alla firma poi invece la ratifica anche per una campagna d'opinione pubblica che ha credo smosso qualche e fatto superare qualche tabù e qualche resistenza di troppo siamo arrivati ad un e adesso ad un piano di applicazione non voglio ovviamente chiudere questo intervento sembrandovi troppo ottimista voglio solamente dire che sono molto più semplicemente determinata sapendo molto bene che infatti si chiama promozione dei diritti umani e che spesso succede che tu fai tre passi in avanti e poi non ne fai ma vedi che qualcuno ne ha fatto uno indietro noi come altri peraltro perché promuovere i diritti umani come voi dicevate è un processo non è una cosa per sempre e la cosa più importante da tenere a mente è che anche quando li hai conquistati li devi difendere perché non è vero che stanno poi scritti in modo indelebile proprio perché sono un valore e hanno valore vale la pena a volte letteralmente parlando di investirci per difenderli per non ritrovarci un bel mattino che avendoli dati per lungo tempo per scontati improvvisamente non solo non sono scontati ma proprio non ce li hai più da questo tutta una riflessione di cui vi sentivo parlare che credo sia una riflessione ormai anche a livello internazionale sulla questione dei diritti sociali c'è l'altro discorso aperto sui diritti ambientali in particolare legato alle generazioni future oltre che a quelle presenti ma che credo abbiano necessità di una articolazione puntuale in modo che questi diritti abbiano poi una formulazione che venga accettata universalmente che il problema non è se ognuno si inventa un suo diritto ma se promuove che questo sia poi una accettazione condivisa infine sempre sulla questione diritti e strumenti per difendere questi diritti questo è importante voglio solamente dire che spesso chi la dura la vince il professor Papisca ricordava la corte penale internazionale forse sarebbe bene anche ricordarci il contesto del 1999 per non parlare quello del 93 e il contesto della darattifiche ottenute nel 2002 il meglio che ci sentivamo dire noi pochi a quell'epoca era che queste corti e la giustizia internazionale avrebbe sicuramente ostacolato accordi diciamo magari più di realpolitik ma che sarebbero stati in contrapposizione credo che abbiamo corso abbia dimostrato che era diverso e alla fine penso anche che questa corte che molti stati importanti non hanno ancora voluto ratificare rimane il fatto che poi quando non sanno più che fare il consiglio di sicurezza normalmente demanda alla corte di occuparsi di casi che non ha poi la politica normale quella cosiddetta più seria non ha saputo questo è il caso di Bashir penso spero che lo sia ben presto il caso di chi e di tutti coloro che per esempio nel territorio siriano si siano resi responsabili di violazioni flagranti di diritti umani nonché nonché di utilizzo di armi chimiche ma penso anche che non è vero che l'unica violazione è l'utilizzo di armi chimiche penso che ci sia stata in questi due anni un baratro di violazione di diritti umani molto diffusi e che credo anche questo non lo dobbiamo perdere di vista grazie grazie ancora Emma Bonino do ora la parola al professor Cofelice uno degli autori dell'annuario che introdurrà gli interventi dei suoi colleghi che entreranno nel merito dello strumento come sia io che Emma Bonino abbiamo chiamato questo prezioso annuario descrivendo l'articolazione concreta di questo volume e la sua forza politica come ambiamo dire prego professor Cofelice grazie presidente dunque in questa parte noi effettivamente vorremmo presentare alcuni dati estratti dall'annuario e faremo riferimento in particolare alle raccomandazioni ricevute in sede internazionale nei confronti dell'Italia in modo particolare io mi soffermerò sulle Nazioni Unite sul meccanismo di revisione periodico universale proprio perché l'anno prossimo ci sarà questa importante scadenza del secondo ciclo di revisione periodico universale a cui sarà sottoposta l'Italia Pietro De Perini poi interverrà sul Consiglio d'Europa ed infine Claudio Pividori proporrà una breve riflessione sul recepimento degli obblighi internazionali in materia di diritti umani nel sistema normativo italiano quindi dicevo appunto Nazioni Unite meccanismo di revisione periodico universale l'Italia è stata sottoposta a questo meccanismo per la prima volta nel 2010 nel febbraio 2010 e in quella sede il nostro paese ha ricevuto 92 raccomandazioni su come sviluppare e promuovere i diritti umani nel nostro sistema da parte di 51 paesi farò riferimento adesso ad alcuni dati che sono contenuti in un documento che credo sia stato distribuito in sala se potete eventualmente seguirmi su questo se noi facciamo riferimento appunto alle categorie rispetto alle quali sono state effettuate queste raccomandazioni le prime sei categorie coprono circa l'86% delle raccomandazioni ricevute quindi quasi la totalità di queste raccomandazioni queste sei categorie fanno riferimento in modo particolare ai diritti dei migranti le raccomandazioni più ricorrenti in questa categoria riguardano l'invito a riconsiderare la criminalizzazione dei migranti irregolari e a riconsiderare anche la politica dei rispingimenti nel Mediterraneo all'epoca abbiamo ricevuto anche circa il 18% di raccomandazioni in relazione ai diritti delle minoranze nazionali soprattutto delle popolazioni rom sinti e camminanti un altro 14% riguarda le discriminazioni razziali oltre all'aumento dei casi di discriminazione sollevati e ricevuti dal Lunar a preoccupare è anche l'aumento dei discorsi pubblici di incitamento all'odio sottolineati da parte dei paesi che ci hanno fatto questo tipo di raccomandazioni vi è poi la necessità di aumentare il numero di ratifiche di strumenti internazionali tra gli altri strumenti ad esempio l'Italia non ha ancora ratificato la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei lavoratori migranti oppure sulle sparizioni forzate e all'epoca appunto non aveva ancora ratificato il protocollo opzionale alla convenzione contro la tortura delle Nazioni Un altro problema strutturale che riguarda l'Italia appunto come è stato già richiamato l'assenza di una commissione nazionale sui diritti umani che possa svolgere il ruolo di coordinatore ma anche di osservatore quindi un ruolo di monitoraggio nei confronti dei diritti umani uno dei pochissimi paesi sono l'unico a livello di Unione Europea ed infine un 10% di raccomandazioni riguardano i diritti dei bambini sono ancora troppi appunto i maltrattamenti sono ancora appunto c'è un problema relativo allo sfruttamento di natura sessuale soprattutto dei minori stranieri e poi vi è infine la necessità di istituire dei meccanismi per garantire il diritto all'ascolto dei bambini nei procedimenti di natura giudiziaria o amministrativa che li riguardano quindi questo diciamo questo è il quadro che emerge dalle raccomandazioni che ci sono state fatte in ambito internazionale naturalmente poi ve ne sono altre meno ricorrenti ma non per questo meno gravi ad esempio diciamo ci sono delle denunce nei riguardi dell'assenza del reato di tortura nel nostro ordinamento oppure la necessità di promuovere l'uguaglianza di genere e contrastare la violenza nei confronti delle donne tra l'altro abbiamo ricevuto la visita del relatore speciale delle nazioni sul tema della violenza contro le donne lo scorso anno in quella sede cioè nel 2010 l'Italia ha deciso di respingere 12 delle 92 raccomandazioni ricevute ad esempio ha respinto la raccomandazione relativa alla necessità di introdurre il reato di tortura nell'ordinamento italiano sulla base che questo era già protetto in qualche modo sotto altre fatti specie nel nostro ordinamento e ha respinto anche la raccomandazione relativa alla necessità di eliminare le disposizioni che criminalizzano l'immigrazione irregolare soparrando appunto del 2010 a fronte di queste 12 raccomandazioni respinte l'Italia ha deciso di accettarne 78 e di impegnarsi nei 4 anni successivi ad attuarle concretamente ed effettivamente tal impegno è stato appunto ribadito anche nel 2011 quando l'Italia ha presentato la propria candidatura all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per essere eletta al Consiglio di diritti umani e proprio sulla base di questo impegno cioè sull'impegno di realizzare tutte le raccomandazioni ricevute e accettate in sede di revisione periodica universale è stata effettivamente eletta e attualmente siede al Consiglio quindi poiché nel 2014 ci sarà questa importante scadenza questo secondo ciclo di revisione periodica che verterà innanzitutto sul livello di attuazione verificherà il livello di attuazione dell'Italia delle raccomandazioni ricevute è importante interrogarsi sullo stato di attuazione di queste raccomandazioni a che punto siamo in sostanza effettivamente sviluppare un monitoraggio puntuale consistente di queste raccomandazioni non è un esercizio facile innanzitutto perché alcune di queste raccomandazioni richiedono un iter legislativo molto complesso oppure un ciclo di politiche pubbliche che richiedono tempo per essere effettivamente implementate in parte anche perché alcune contengono degli obiettivi di lungo termine che non sono facilmente attuabili in un arco diacronico di appena 3-4 anni detto questo però c'è da dire che nel caso dell'Italia il processo di monitoraggio è reso ancora più difficile poiché manca un rapporto di medio termine del nostro paese altri paesi ad esempio a livello di Nazioni Unite dopo due anni dal primo ciclo di raccomandazioni UPR hanno prodotto un rapporto nel quale facevano già stato spiegavano già qual era il livello di attuazione parziale chiaramente delle raccomandazioni ricevute questo manca è mancato in Italia quindi nel 2012 non c'è stato questo tipo di rapporto e quindi i dati che adesso vado a presentare sono emersi in modo particolare dal confronto incrociato di fonti indipendenti mi riferisco in modo particolare ad alcuni rapporti di società civile internazionale e nazionale soprattutto da parte del Comitato per la promozione e protezione dei diritti umani che opera in Italia e incrociando dati anche provenienti dalle Nazioni Unite sulla base di questi dati è possibile determinare che il livello di complessivo di totale implementazione delle raccomandazioni ricevute è pari circa al 4% nel senso che l'Italia ha implementato finora fino al 2012 soltanto il 4% delle raccomandazioni ricevute ad esempio è stato ratificato il protocollo opzionale alla convenzione contro la tortura è stato predisposto come già è stato ricordato dal Ministro arrivederci grazie ma arrivederci quindi prego grazie quindi è stato appunto allora come dicevo predisposto il la strategia nazionale di inclusione dei rom sinti e camminanti per il periodo 2012 2020 nel 2011 nel 2011 è stato adottato il terzo piano nazionale di azione ed interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva e nel frattempo sono state anche rafforzate le misure già intraprese in precedenza per contrastare il fenomeno della tratta di esseri umani e per tutelare soprattutto le donne e bambini vittime di questa tratta a fronte di questo 4% c'è un 21% di raccomandazioni parzialmente implementate vuol dire che l'Italia ha compiuto dei passi importanti anche nei confronti di queste raccomandazioni ma non sufficienti da raggiungere poi l'obiettivo finale segnalato nelle raccomandazioni ma soprattutto nessuna azione è stata finora realizzata nei confronti di circa la metà delle raccomandazioni ricevute e questo dato assume un senso se paragonato ad altri paesi ad altri paesi in modo particolare dell'Unione Europea abbiamo fatto questo tipo di esercizio e rivela in modo particolare che l'Italia si trova in ritardo rispetto all'implementazione di queste raccomandazioni la Spagna ad esempio dopo due anni dal suo esame periodico universale aveva già attuato il 24% il Portogallo il 36% e questi sono paesi che hanno avuto più o meno lo stesso numero di raccomandazioni che abbiamo ricevuto noi la Francia addirittura il 56% ma qui le raccomandazioni sono molto minori quindi il carico di implementazione è ridotto e la Germania il 14% quindi sono tutti i paesi che nei due anni successivi ai loro rispettivi esami periodici universale si sono impegnati in maniera consistente nel provare a implementare queste raccomandazioni e l'Italia è ancora indietro invece da questo punto di vista tuttavia il 2014 appunto come si diceva è un anno cruciale per verificare la credibilità del nostro paese nei confronti della promozione dei diritti umani internazionalmente riconosciuti e quindi l'auspicio è che si cerchi di utilizzare il tempo rimanente per realizzare perlomeno gli impegni più ineludibili che riguardano gli impegni assunti in materia di standard internazionali dei diritti umani nei confronti dei quali l'Italia è tenuta da obblighi giuridici ringrazio per l'attenzione passo la parola a Pietro De Perini grazie professor Cofelice professore De Perini buonasera come anticipato dal mio collega Andrea Cofelice il mio contributo si concentra più sulla dimensione regionale del dialogo tra Italia e istituzione internazionale per i diritti umani e nello specifico si propone di fornire una veloce panoramica sui temi che emergono dalle attività e dalle raccomandazioni degli organismi di monitoraggio del Consiglio d'Europa nel corso del 2012 che è appunto l'arco diacronico di riferimento di questo annuario diversi organismi del Consiglio d'Europa hanno adottato una serie di rapporti risoluzioni raccomandazioni conclusioni con riferimento alla situazione dei diritti umani nel nostro paese chiaramente dall'analisi di queste osservazioni contenute in questi documenti sono emersi numerosi temi numerose riflessioni a cui abbiamo cercato di dare seguito nelle pagine di questo annuario e in modo sistematico nell'agenda italiana ai diritti umani che vi è stata consegnata e a titolo esemplificativo nel breve tempo a disposizione vorrei presentare alcune criticità ma anche alcuni sviluppi positivi in relazione a tre di questi temi alcuni dei quali sono già stati menzionati nel corso di questa presentazione i temi sono appunto la situazione di Rom e Sinti il tema della corruzione e ancora il tema delle condizioni carcerarie della tortura il primo tema Rom e Sinti si registra ancora molta preoccupazione a livello internazionale nonostante l'adozione della strategia di inclusione degli appartenenti a queste comunità che è stata adottata dal Consiglio dei Ministri il 24 febbraio 2012 in risposta alle raccomandazioni della Commissione Europea con la comunicazione numero 173 del 2011 sulla carta questa strategia e anche il processo attraverso cui questo documento strategico è stato adottato costituiscono un importante elemento di rottura con l'approccio seguito precedentemente alle autorità italiane con riferimento a queste comunità un approccio che era fortemente orientato all'emergenza alla sicurezza basti pensare ad esempio al decreto cosiddetto sull'emergenza nomidi o i vari patti per la sicurezza Stato-Regioni è un approccio che in sede internazionale non solo regionale Consiglio d'Europa ma anche internazionale UPR come anticipava appunto il mio collega sono stati fortemente e insistentemente criticati dai vari organismi il nuovo approccio presentato si basa su una cooperazione di tipo interministeriale ed è un approccio inclusivo e partecipativo fondato anche sul dialogo appunto con i rappresentanti di queste comunità e con le organizzazioni di società civile esperte su questi temi tuttavia come afferma in modo molto chiaro il commissario per i diritti umani nel suo rapporto che ha fatto seguito alla visita che ha condotto nel nostro paese nel luglio del 2012 vi è ancora grande preoccupazione sulla possibilità che l'UNAR l'ufficio antidiscriminazione razziale a cui il governo ha affidato l'incarico e le funzioni di punto di contatto nazionale di implementazione e monitoraggio di questa strategia sia effettivamente in grado di adempere a queste funzioni in particolare alla luce dei sostanziosi tagli che questo ufficio ha ricevuto a seguito del più ampio ridimensionamento della spesa pubblica imposta appunto alla spending review l'anno precedente e chiaramente questi tagli nei confronti di questo ufficio non vanno solo a avere conseguenze negative sulle funzioni del LUNAR in relazione ai ROM ma tutte le varie funzioni di contrasto al razzismo e alla xenofobia svolte da questo ufficio il secondo tema a cui volevo fare riferimento riguarda appunto la corruzione nel 2012 il gruppo di stati contro la corruzione di cui l'Italia fa parte ha presentato due rapporti di valutazione sull'Italia su due tematiche distinte quella delle incriminazioni per corruzione e quella dei finanziamenti ai partiti politici e sostanzialmente le raccomandazioni contenute in questi rapporti sono molto critiche in particolare per quanto riguarda come è noto il tema del finanziamento ai partiti politici per il quale il greco il gruppo di stati sostanzialmente raccomanda di avviare un più generale percorso di riforma del quadro legislativo in materia come è stato anticipato anche precedentemente dal professor Papisca in realtà ci sono anche degli sviluppi positivi importanti in materia di corruzione anche in relazione a quanto presentato nell'annuario infatti a giugno 2012 2013 scusate sono stati finalmente depositati gli strumenti di ratifica delle due convenzioni del Consiglio d'Europa in materia di corruzione la convenzione civile e la convenzione penale quasi un anno dopo che il Parlamento aveva adottato le rispettive leggi di ratifica e esecuzione di queste convenzioni e le convenzioni saranno in vigore dal primo ottobre quindi non sono per il nostro paese saranno in vigore dal primo ottobre e sarà importante come comitato di ricerca e redazione di quest'annuario valutare quali saranno gli effetti chiaramente sulla situazione della corruzione in questo paese e sulle misure di contrasto a questo fenomeno ma diciamo che un primo effetto sia da subito dal momento che finalmente si pone in termine una situazione che poteva anche risultare da un certo punto di vista paradossale perché vedeva l'Italia in prima linea parte del gruppo di stati contro la corruzione sottoposto all'attento monitoraggio di questo gruppo di pari ma allo stesso tempo non parte dei principali strumenti giuridici di standard setting in materia appunto del Consiglio d'Europa il terzo tema a cui volevo fare riferimento riguarda appunto il tema delle condizioni carcerarie della tortura è interessante appunto sapere in via diretta l'impegno del governo su questo campo ma l'osservazione che volevo appunto presentare non riguarda tanto raccomandazioni contenute in dei rapporti quanto piuttosto l'assenza di queste raccomandazioni infatti vista la rilevanza sempre più centrale che il tema delle condizioni carcerarie del sovrappollamento delle carceri anche alla luce degli sviluppi della giurisprudenza europea di cui parlerà la mia collega Claudia Pevidori a breve colpisce da un certo punto di vista che non sia ancora stato dato impulso alla pubblicazione del rapporto del Comitato del Consiglio d'Europa per la prevenzione della tortura che ha fatto seguito alla visita condotta da questo Comitato in Italia nel 2010 nel giugno del 2010 quindi oltre tre anni fa nel 2012 c'è stata un'altra visita da parte di questo organismo e chiaramente c'è un altro rapporto in attesa ma i tempi sono chiaramente diversi quindi dal momento che il Comitato per la prevenzione della tortura assolve come il nome stesso recita delle funzioni essenzialmente di tipo preventivo che sono volte non a condannare gli stati ma piuttosto a sostenere gli sforzi dei governi per migliorare le condizioni di vita e dei diritti umani delle persone private e a loro libertà apparirebbe quanto mai importante la richiesta di pubblicazione di questi rapporti sia per contribuire al miglioramento dello stato di salute generale dei diritti umani nel nostro Paese ma anche dare ampia circolazione a questo rapporto per favorire un salutare dibattito a livello nazionale un dibattito anche critico ma informato su questi temi di centrale rilevanza questi sono i tre punti che volevo sottolineare credo di aver ampiamente abusato il mio tempo vi ringrazio per l'attenzione grazie grazie professoressa Pividori prego buonasera a tutti il mio breve intervento verte principalmente su quello che sono le principali convergenze e resistenze del sistema Italia rispetto all'attuazione principalmente dal punto di vista legislativo di quelli che sono gli obblighi internazionali in materia di diritti umani nonché della propensione dell'Italia ad adeguarsi alla giurisprudenza delle corti internazionali deputate al monitoraggio di questi strumenti sono particolarmente felice di aver sentito che l'analisi della Ministra in realtà è molto consonante a quella che farò io quindi scusate se magari ci sarà qualche ripetizione ora se consideriamo che l'attuazione degli obblighi internazionali è proprio un aspetto critico di quello che è l'impegno di uno Stato nella garanzia dei diritti umani nel 2012 uno sviluppo decisamente positivo è stata la riforma organica della legge che disciplina la partecipazione dell'Italia alla formazione e al recepimento del diritto dell'Unione Europea in effetti l'Italia ha il primato per quanto riguarda il numero di procedure di infrazione e molto spesso dimentichiamo che queste procedure riguardano proprio il mancato recepimento di normative dell'Unione Europea che riguardano diritti umani pensiamo solamente al tema delle condizioni dei rifugiati dei richiedenti asilo ma anche in particolar modo alla parità in ambito lavorativo per quanto riguarda i disabili come già menzionato dal Ministro in effetti ci sono stati anche nel 2012 degli sviluppi positivi dal punto di vista legislativo primo tra questi appunto abbiamo l'Italia ha adottato la legge di adeguamento allo Statuto della Corte Penale Internazionale con l'appunto però che questo riguarda solamente il versante della cooperazione mentre manca ancora un adeguamento rispetto al diritto sostanziale già ricordato in tema di diritti dei minori è stata ratificata la Convenzione di Lanzarote ed è stata anche adottata una legge che finalmente ha eliminato ogni residuo e disparità tra figli naturali e figli legittimi anche questo è un intervento richiesto da alcune istanze internazionali ed infine per quanto riguarda i diritti delle donne nel 2012 abbiamo l'Italia ha firmato la Convenzione di Istanbul poi il processo che si è concluso con la ratifica e l'adozione di un importante decreto attuativo nel 2013 ora accanto a questi appunto sviluppi positivi ci sono comunque delle aree in cui le istanze internazionali ci hanno sollevato e hanno in qualche modo indicato all'Italia alcune carenze o la necessità perlomeno di intervenire in maniera più incisiva in maniera più orientata ai diritti umani nella prima categoria ribadisco manca il reato di tortura e questo non è assolutamente una questione di principio ma è una mancanza che incide nella capacità di rendere giustizia e di sanzionare comportamenti che oggettivamente integrano questo tipo di reato in secondo luogo il secondo tema in cui manca un intervento legislativo è il contrasto al fenomeno dell'omofobia e la transfobia per quanto riguarda invece delle aree in cui ci sarebbe bisogno di sviluppare un apparato normativo o di cambiare l'orientamento il tema della diffamazione principalmente nella parte in cui è prevista una pena detentiva per gli autori di questo reato nella sua forma aggravata e come già sottolineato dal mio collega De Perini il tema della corruzione per quanto riguarda invece l'adeguamento dell'Italia alla giurisprudenza internazionale anche nel 2012 si è riconfermata questa positiva tendenza da parte della magistratura italiana quindi dei giudici interni in primis la corte costituzionale ma anche la corte di Cassazione e tutti i giudici di merito nel utilizzare citare in maniera puntuale consapevole le fonti internazionali in materia di diritti umani in effetti questa dialettica tra giudice interno e giudice internazionale è particolarmente feconda e fruttuosa quando tocca aspetti che sono particolarmente sensibili a livello interno si pensi ad esempio all'impatto che sentenze emesse a livello internazionale hanno poi in tema di orientamento e anche di evoluzione della giurisprudenza interna su questioni di bioetica di biodiritto pensate alla poicondazione assistita alla diagnosi preimpianto pensate alla sentenza costa pavan ma anche in tema di matrimonio omosessuale o di diritti degli immigrati ora questa saldatura positiva che si crea tra ordinamenti interni e ordinamento internazionale non elimina tutti quelli che sono diciamo degli elementi di frizione tra quello che è il sistema italiano nel suo complesso e la prassi internazionale gli aspetti i punti deboli i punti dolenti dell'Italia probabilmente li conosciamo tutti di vieto di tortura trattamenti umani degradanti rispetto a procedure di respingimento nel 2012 c'è stata la bruciante sentenza IRSI ma anche con riguardo a procedure di espulsione verso paesi in cui soggetti effettivamente rischiano questo tipo di pratiche ma anche con riferimento alla situazione del carcere non solo per quanto riguarda il sovraffollamento ma anche ad esempio a condizioni di detenuti con particolari patologie che in realtà si trovano a subire questo tipo di trattamenti un altro problema annoso è il ritardo l'eccessiva durata dei procedimenti e l'eccessiva durata dei procedimenti volti a riparare a questo tipo di danno e qui in qualche modo stiamo aspettando gli effetti della riforma Pinto vedremo se avrà gli effetti appunto sperati gli ultimi due punti c'è una certa diciamo difformità tra giurisprudenza italiana e internazionale per quanto riguarda la compatibilità con i principi del giusto processo di alcune leggi di interpretazione autentica che agiscono in maniera retroattiva su alcuni diritti diciamo acquisiti grazie al diritto vivente in particolare in tema di diritti sociali e infine la tutela del diritto di proprietà a fronte di procedure di espropriazione indiretta ora per concludere se è vero che le aree in cui c'è una crescente convergenza da parte dell'Italia e l'Italia mostra di sapere e volere convergere verso i più elevati standard internazionali tanto da far quasi prefigurare questa tutela multilivello dei diritti ci sono delle aree di resistenza tanto più importanti perché toccano principi fondamentali anche di use cogens come sono quelli del divieto della tortura che mostrano una vera e propria impermeabilità quasi del sistema italiano a questi stessi obblighi come abbiamo più volte ribadito stasera l'Italia volutamente debitamente sottoscritto grazie grazie mille la parola al professor mascia poi alcune rapide conclusioni prego tutte le informazioni sull'annuario voi le potete trovare all'indirizzo www.annuarioitaliano diritti umani punto it va ripetuto in questi casi www.annuarioitaliano diritti umani punto it volevo ho chiesto il permesso al presidente manconi ancora ringraziare due persone Barbara Terenzi la portavoce del comitato diritti umani che riunisce più di 80 organizzazioni non governative nel nostro paese che è sempre in prima linea per la creazione di un'istituzione nazionale indipendente per i diritti umani e il dottor Stefano Tauleuro a cui si deve l'organizzazione di questo evento persona straordinaria e segnalo del dottor del dottor Tauleuro un articolo che è appena uscito sulla nostra rivista pace diritti umani peace human rights su i diritti umani nel senato e lui ricostruisce dal comitato contro la pena di morte fino alla commissione straordinaria che speriamo diventi commissione ordinaria grazie presidente grazie professor Mascia per concludere due rapidi considerazioni perché così ampio e così ricco è stato il materiale che oggi ci avete offerto che almeno una primissima riflessione mi sento di volerla fare la prima e io credo forse la più importante acquisizione che ci consegna la giornata di oggi è lo stesso annuario ed è quanto appunto il professor Papisca aveva enunciato quando ha con brevi tranquillizzanti parole come dire azzerato decenni di discussioni superflue relative a quel conflitto in genere strumentalmente attivato tra diversi gruppi di diritti tra diverse famiglie di diritti quando appunto citando non solo la lunga riflessione che il gruppo da lui diretto ha condotto in questi anni ma anche ciò che la riflessione internazionale la letteratura internazionale dà per accertato la non solo mancata tensione tra stato sociale e stato di diritto ma per converso o meglio al contrario la perfetta coincidenza tra stato sociale e stato di diritto guardate come l'ha detto il professor Papisca sembrava la più ragionevole delle constatazioni ma noi vediamo veramente da decenni che hanno visto dicevo prima futili competizioni di natura politica quindi io subito la butto in politica ma perché l'ambito politico attingeva anche a una cattiva lettura della riflessione sui diritti umani ponendo in alternativa spesso in competizione tra volta in diretto conflitto la tutela di quelli che possiamo chiamare diritti economico sociali e politici rispetto ai diritti umani i diritti e le garanzie della persona contrapposti alle garanzie collettive sul piano economico sociale dunque sembrava che l'homo economicus fosse totalmente disinteressato al catalogo delle garanzie relative allo sviluppo individuale alle relazioni tra i sessi alla questione dell'infanzia o dell'espressione culturale della libertà religiosa perché prevaleva il bisogno primario da soddisfare quello di condizioni elementari di sussistenza economico sociale intorno a questo falso conflitto si sono create gerarchie ingannevoli e il risultato politico è stato che la seconda famiglia di diritti e ne abbiamo in Italia una straordinaria e drammatica manifestazione che so la questione delle unioni civili ma non solo venivano considerati sempre come attinenti al campo del superfluo beni non strettamente necessari è indubitabilmente da mettere in secondo piano rispetto alla soddisfazione delle primarie necessità economico sociali questo opzione cattiva opzione è arrivata al punto che si sono costruite ideologie che hanno voluto negare la pregnanza e la contemporaneità e la necessaria integrazione di quella famiglia di diritti relativi alla tutela delle garanzie individuali della persona come destinata ad essere sempre subalterno rispetto ad altre priorità anch'io ho visto un primo progresso all'interno del mio sguardo che oltre a essere scarsamente vedente generalmente molto pessimista un primo progresso l'ho visto in effetti veniamo e siamo ancora dentro una crisi economica finanziaria economico finanziaria che ormai è di cinque anni tondi tondi ma in questi cinque anni si è riusciti in qualche modo a far intendere che la persona è persona intera e che la necessità di soddisfare i bisogni appunto primari il lavoro la sussistenza quindi le esigenze fondamentali della vita quotidiana non sono altro rispetto a bisogni di felicità di coniugalità di genitorialità di pieno sviluppo delle proprie capacità espressive ecco questo mi sembra intorno a quella formula che diceva il professor Papisca stato sociale stato di diritto come perfettamente integrabili in un programma complessivo che chiamiamo del diritto dei diritti umani una prima acquisizione la seconda acquisizione è stata la risposta che il professor Papisca ha dato al mio quesito dicendo appunto che la cittadinanza o è europea o non è e qui è molto interessante un'aggiunta che ha fatto permettetemi una battutaccia si discuta in continuazione o meglio si dovrebbe discutere molto di più della tensione tra ius sanguinis e ius soli mi colpisce il fatto che gli oppositori dello ius soli rivendicando italianità e dunque perfetta e piena discendenza dalla stirpe latina immancabilmente così formulano la questione ius sanguinis o ius solis la lingua è sempre traditrice come notto però qui c'è la cosa davvero significativa ancora una volta noi stiamo faticosamente affrontando la questione dello ius soli io credo che però ancora una volta o la dimensione del riconoscimento di questo diritto è la dimensione europea o noi rischiamo nella migliore e tutt'altro che probabile delle ipotesi di realizzare in Italia ripeto nella migliore e poco probabile dell'ipotesi uno ius soli temperato formula che non amo alla follia ma insomma che rischia di non avere poi quella forza che dovrebbe avere perché non calato sufficientemente adeguatamente all'interno di un concerto di tutela di diritti e garanzie che la cittadinanza europea e lo ius soli europeo cito ancora il professor Papisca solo può garantire ecco credo che questo ci abbia dato delle piste di riflessione molto importanti davvero importanti e questo mi induce a ringraziare ancora una volta ispiratori direttori curatori realizzatori di questo annuario italiano dei diritti perché oggi ci hanno offerto una straordinaria opportunità di lavoro intellettuale grazie ancora a tutti i presenti grazie 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 grazie